Ho preso la parola a Claudio Marenzi. Il tema della sostenibilità è stato il primo presidente di Confindustria Moda a proposito di fare sistema, che è la federazione delle associazioni che rappresentano le varie componenti dell'industria della moda, il sistema della moda allargato. Ora è presidente di Pit Immagine, ma poi è anche presidente di Erno, che è l'azienda di Capispalla, che veramente da local è diventata global. Però con lui da sempre parliamo prima di tutto del fatto che la sostenibilità non sia gratis e se ce ne fosse stata dimostrazione lo vediamo con quello che sta succedendo sul fronte dell'energia, molto legato anche ai costi della transizione ecologica, ma soprattutto che deve essere di sistema. Quindi sono temi anche qui pre-Covid, però probabilmente il Covid ha accelerato anche questo, l'innovazione, il ripensare, re-ingegnerizzare le collezioni in un'ottica di sostenibilità e magari addirittura di de-manufacturing e naturalmente la sostenibilità, come l'abbiamo sempre intesa, cioè l'impatto diretto sull'ambiente. Bene, vi ringrazio Giulia, buongiorno a tutti. I temi sono tanti, affrontati parecchi. Diciamo che questo periodo drammatico, al netto della tragedia umana e sociale, ha dato un'accelerazione a tutti i processi che erano già in fieri precedentemente. Per cui sia l'innovazione, sia tutto il mondo digitale, di cui parlava prima il dottor Binello, la sostenibilità, per cui diciamo in questi due anni c'è stata da una parte uno stop per quanto riguarda i consumi, ma dall'altra un'accelerazione incredibile su tutti gli aspetti dei processi in atto precedentemente. Tantissime innovazioni, tantissime, ripeto, sul mondo digitale, che è questo, dando ragione al dottor Binello, diciamo che crea la necessità alle aziende piccole, medie e anche grandi, di disporre di grandi risorse finanziarie, anche perché poi devono trasformarsi in risorse umane e in questo momento sappiamo quanto è difficile e costoso reperirne. Detto questo, poi sulla sostenibilità, perché penso che sia il tema che sia più così cogente e quello che ti interessa anche di più, anche su questo c'è stata un'accelerazione, una maggiore attenzione da parte del consumatore, un'attenzione da parte di tutti per quanto riguarda la comunicazione e anche in qualche modo le certificazioni che nel passato e adesso, sta parlando avanti brillantemente Carlo, con le associazioni. Detto questo, la sostenibilità deve quasi essere un non tema, cioè la sostenibilità deve rientrare nel processo produttivo, industriale di qualsiasi prodotto, scusate un bisticcio di parole, ma per dire, e ovviamente anche nella moda, visto che siamo un settore accusato, mi avviso anche abbastanza ingiustamente, di essere tra o il più, diciamo così, il più inquinante o quant'altro, perché comunque bisogna prendere dei dati in un certo modo. Detto questo, siamo comunque sotto il riflettore e dobbiamo fare non solo delle riflessioni, ma lavorare riguardo i processi, cioè industrialmente. Poi è chiaro che c'è tutto l'aspetto di comunicazione importantissima, gli eventi e quant'altro, però dobbiamo cambiare quasi paradigma sul processo industriale, a partire dalla chimica, come diceva prima Carlo, che senza quella non possiamo fare nulla, perché finché non vengono cambiati parte dei coloranti o parte di quelle materie che servono per impermeabilizzare o quant'altro, noi non riusciamo da soli a farlo. E in più ci sono tutti i processi produttivi, processi produttivi che devono essere più sostenibili, per cui usare dei macchinari meno energivori, utilizzare più energie rinnovabili, rivedere la distribuzione. Ecco, un grande tema che non è ancora tanto stato affrontato è la poca sostenibilità del mondo digitale, cioè dell'acquisto digitale, con merce che si spostano da una parte all'altra del mondo, di andate, ritorno, resi, non resi. Tra l'altro non solo, c'è anche, noi pensiamo che inquinare, voglia dire, consumare energia, voglia dire accendere una lampadina, essere risparmiosi, spegnere tutte le luci quando si esce di casa, ma, per esempio, i server o tutto il mondo delle criptovalute sono energivori in modo che nemmeno immaginiamo, quindi non pensiamo che ciò che non vediamo, che la comunicazione elettronica o il digitale, sia più sostenibile di una comunicazione tradizionale. E poi, naturalmente, tutta la movimentazione delle merci, noi poi in Italia abbiamo un storico problema di trasporto su gomma, che è meno rispetto a quello su rotaia. L'altro tema, secondo me, molto interessante è quello di rivedere tutto. E penso che la moda, la fortuna, che è presente anche poi con un marchio, come nel caso di Erno, sul mercato, i consumatori di oggi sono non solo nativi digitali, sono anche nativi sustainable, cioè loro nascono, credo, già con questa idea che ogni comportamento, anche il comportamento di acquisto, ha un impatto sull'ambiente. Questo può essere uno stimolo, perché noi abbiamo tutti un'età diversa, non siamo nativi sostenibili, però dal mercato viene questa spinta. Sì, devo dire che dipende molto anche da aree geografiche, perché si ragiona molto sui giovani, per cui sul dato anagrafico. Ricordiamoci del patto geografico, perché ci sono alcuni giovani di alcune aree del mondo che hanno un'attenzione o una sensibilità alla sostenibilità minore di quella che noi possiamo immaginarci, mentre invece ovviamente tutta l'area europea e, diciamo così, occidentale, per cui gli Stati Uniti, quant'altro hanno un'attenzione maggiore, con un potere d'acquisto più basso. Per cui delle volte si fanno delle, come dire, delle confusioni, dicendo sì, i giovani sono, diciamo così, sono più altospendenti e sono anche più sostenibili, invece lo sono altospendenti, ma forse la sostenibilità di quegli altospendenti, parlando del mondo asiatico, hanno una sensibilità sulla sostenibilità minore. Ecco, non so se è stato chiaro, ma fondamentalmente bisogna ragionare anche su questo. Detto questo, noi è chiaro che la moda, più di altri settori, adesso siamo sotto riflettore del consumatore, riempiamo i giornali e comunque la comunicazione in molti più di altri prodotti. Siamo continuamente innovativi, cambiamo collezioni, e questo succede solo nel settore della moda, ogni sei mesi, quando va bene, ma ormai siamo arrivati a fare tre mesi, e come diceva anche il dottor Vinello prima, anche mensilmente. Per cui siamo abituati a essere sotto i riflettori e a continuare a cambiare e a rinnovare i nostri processi produttivi. Sulla sostenibilità, ripeto, è così, però bisogna anche, se si prende seriamente, ragionare su tutto il processo. E questo non si può fare avendo delle novità mensili. Lì si può fare con la moda e con l'innovazione sul prodotto, ma per quanto riguarda la sostenibilità, è un discorso veramente industriale, bisogna cominciare a ragionare in medio-lungo termine, sia per quanto riguarda, ripeto, i processi produttivi, sia per quanto riguarda banalmente i tessuti. Quando si studia i tessuti, un tessuto che abbia delle caratteristiche di sostenibilità, cioè riciclabile o riciclato, o ancora meglio, dei tessuti biodegradabili, quando si sono raggiunti certi livelli, non è che si possa cambiare ogni tre mesi la materia prima. Per cui, in qualche modo, la sostenibilità deve scontare, ti dico una nuova parola, una noiosità del prodotto, perché non si può sempre cambiare, si può cambiare il colore, si può cambiare un aspetto, ma fondamentalmente le materie prime, le materie che vengono fuori devono continuare nel tempo perché devono essere migliorate. E per cui bisogna, la moda, a mio avviso, in questo momento deve ragionare con dei nuovi paradigmi, per cui sì, con le azioni nuove, continuare ad aggiornare i propri prodotti, però sulla sostenibilità, esattamente sulla sostenibilità, deve fare dei ragionamenti, sia sui processi, sia di materie prime, di lungo termine. Guarda, vi consiglio a tutti questo libro che sto leggendo che si chiama Il futuro, storia di un'idea. L'ho pubblicato la terza e sono capitoletti, quindi anche in questo mondo frammentato che viviamo, si riesce a leggerne magari uno. C'è per esempio il capitolo dedicato alla scritta Ignazio Visco, tra l'altro alle possibilità economiche per i nostri nipoti, dedicato a Keynes, naturalmente, e diceva in questo scritto che dobbiamo tentare di influire in tempo sul corso degli eventi. Quindi mi sembra molto bella, c'è l'idea che comunque per influire sul tempo bisogna farlo in modo molto ragionato. Come diceva Claudio Marenzi, è una questione di processo, non è uscire con un prodotto che ha una footprint di un certo tipo. Se posso interrompervi su questo. Ecco, vuol dire, noi, almeno personalmente, nella mia azienda, l'abbiamo affrontato in questo modo. Abbiamo iniziato un percorso virtuoso dal 2010 quando abbiamo reso i nostri tre siti produttivi a impatto zero per quanto riguarda l'energia. Per cui, diciamo, l'energia che noi consumiamo e l'energia che noi produciamo con i nostri impianti. È complicato, è faticoso, però è un bellissimo traguardo. Quindi, grazie Claudio. Abbiamo iniziato un percorso. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie.